Ciao a tutti ragazzi, io sono Kendal e bentornati in un nuovissimo video di Minecraft E' arrivato il momento di entrare nel mio realm Perché per chi non lo sapesse, un mese fa ho creato un server Con il mondo dell'Imperocraft Per fare giocare due fan builder professionisti Questo esperimento l'ho fatto per vedere che cosa erano in grado di costruire In un mondo interamente vuoto E diciamo che mi hanno lasciato piuttosto senza parole Questo è l'Imperocraft ragazzi L'Imperocraft rivisitata Ecco, io non sono in grado di fare queste cose Mettetevelo già in testa, non mi chiedete delle pazzie del genere E questo è il secondo video aggiornamento Perché come vedete sono andati avanti con le build E non vedo l'ora di vedere che cosa hanno costruito Allora, la prima cosa che salta subito all'occhio è questo bellissimo villaggio in mezzo alla natura Subito fuori al castello Ma come fanno a fare delle case così belle? Cioè questa sarebbe la casa di quello che fa l'arco con le frecce Vedete che hanno fatto proprio la pixel art? Eh sì, questa è la casa dell'arciere E anche dentro come vedete è tutto quanto decorato Infatti questa è una caratteristica di questi due fan Ogni volta che costruiscono qualcosa Poi decorano anche gli interni Che figata ragazzi È pazzesco Io non ho idea di dove abbiano imparato a costruire così bene E mica ne hanno fatta una di casa Sono tutte diverse tra loro E tutte bellissime E a quanto pare alla fine di questo video Ci sarà una sorpresa Mi hanno detto di non spoilerarmela Non vedo l'ora ragazzi Sono curiosissimo Ok, quindi qua hanno fatto un villaggetto Con tante case diverse Che c'è scritto? Ah, questa è una specie di metropolitana Ma dai, guarda Tira la leva e premi il bottone Uh In base a dove scegli Cambia i binari E ti fa andare da un'altra parte Se altro che la mia metropolitana No vabbè Hanno fatto pure gli alberi custom Cioè questi sono alberi costruiti da loro Oh lì Guarda questa casa quanta è gigante No dai, questa deve essere vuota Ah, infatti è vuota Ok Si vede che non hanno ancora avuto il tempo Di arredarla e di riempirla Però ragazzi Notate anche il livello di dettaglio Che mettono nelle torri Cioè qui è palese Che stanno cercando di fare Delle mura difensive Tutte attorno al castello E hanno già iniziato Come vedete Due torri grandi qua Mura e portone in legno E probabilmente continueranno Lungo tutto questo perimetro Che hanno designato Mamma mia Non uso immaginare quanto tempo ci voglia Cioè per farvi capire Questo è tutto il tempo che ci vuole Per fare soltanto una colonna Guardate Cioè vedete quanto è alto, no? E non ho ancora finito Bisogna scendere un altro po' Un altro po' Et voilà E loro devono cercare di riempire Tutto questo muro E poi farlo tutto attorno Cos'è questo? Oh 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 Mi stai forse dicendo Che hanno arredato anche tutte le stanze del castello? Sì, ciao Raga guardate il livello di dettaglio pauroso È tutto tridimensionale Non c'è uno spazio vuoto È tutto ben pensato Persino le sedie sono ben pensate Ha fatto le forchette e i coltelli Ma di che cosa stiamo parlando? Oh mio dio Io non sarò mai così bravo Mettetevelo già in testa ragazzi Non sarò mai così bravo Allora direi di entrare di nuovo all'interno del castello Perché nel primo video Gli interni erano tutti quanti spoglie vuoti E adesso invece mi sa che hanno arredato ogni singola stanza Che cos'è questa? È la stanza della torre Tipo l'armeria probabilmente Mamma mia Che spettacolo Persino sopra le torri hanno arredato Mamma Credo tra l'altro che in questo mese Ci stiano giocando un po' di meno Perché ovviamente è agosto Saranno andati al mare Giustamente Però ragazzi Tenetevi pronti Perché secondo me a settembre Ci lasceranno tutti senza parole Quanto è alta sta torre? Oh guarda Che belle le finestre così Con queste arcate Le texture che hanno messo sui tetti Io sono senza parole Questa era la stanza padronale Che l'abbiamo già vista Nello scorso episodio È enorme Con un letto gigante È veramente veramente stupenda E scendendo da queste scale Si possono raggiungere le altre stanze Dai ha fatto pure il corrimano Tutto ciò è follia Guardate quanto sono belli i nuovi quadri E questa cos'è? Tipo la stanza degli armadi? Sembrano tutti dei cassetti È la cabina armadio questa E vabbè Il tappeto Come fanno a fare delle texture così belle? Cioè funziona tutto Non c'è una cosa che dici No Questa è un po' stona No Anche questo tappeto Non me ne ero accorto Per chi se lo stesse chiedendo Ovviamente è tutto Mamma mia È tutto quanto costruito in creativa Ma solo in creativa Non possono utilizzare programmi esterni Tipo World Edit Cos'è questa? La stanza dei quadri La sala da pranzo Non lo so Ma è bellissima E Uuuuh Vabbè È una pixel art di Spider-Man No C'è anche la pixel art mia Ma è stupendo Ragazzi sono io quello Sono io Che spettacolo E questo Ah questo credo sia Pietro E questo invece è Spidey Perché i due costruttori hanno queste skin Ok ok Bello Cioè anche la parete delle scale È tutta quanta ben decorata Ma di che stiamo parlando? Eeeh Cos'è un acquario? Ti prego dimmi che c'è l'axolot blu dentro Ah no 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 Ci sono i pesci tropicali Quindi non c'è nessun axolot E se no li avrebbero già mangiati Follia E qua siamo in un'altra stanza Ah no E questa è quella di prima Ok Con le finestre che dava verso La foresta di bambù E questa era soltanto UNA Parte del castello Perché ovviamente Se continuiamo C'è dell'altro Mamma mia Uuuuh Ma questi sono i totem Che io e Bella Faccia Avevamo fatto nella vanilla insieme O sbaglio? È una citazione Mi sa che questo è un easter egg Questa cos'è Eh sì Cos'è Cos'è Che figo Non avevo mai visto niente del genere Questa è tipo la sala magica mi sa Dove vive il mago Lo stregone Che bello Che bello E questa scala porta a un ponte Che ti fa salire su un battello volante Ma dai Comunque hanno veramente tanta 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 fantasia Io non saprei neanche da dove iniziare Ma non abbiamo ancora finito Quindi andiamo a vedere le altre stanze Perché ad esempio Continuando tutto dritto Per questo corridoio Arriviamo alla sala della biblioteca Che è enorme Vi rendete conto di quanto tempo ci voglia piazzare tutti questi? Blocco per blocco E poi tutto quanto super arredato Con delle scale bellissime a chiocciola Che palesemente l'hanno fatto per me Perché sanno che adoro le scale a chiocciola E queste che cosa sono? Wow Che strano effetto Sembrano tipo dei cuscinoni Ma da chi prendono spunto questi? Io vi giuro ragazzi Non ne ho idea Non ho mai visto nessuno costruire in questo modo Guarda quante aperture ci sono Quanti bei dettagli Follia L'ho già detto anche nello scorso video Secondo me loro due sono i migliori costruttori d'Italia E ovviamente sono miei fan Cioè considerate che questo castello gigante L'hanno fatto in quattro giorni Ok Adesso credo sia arrivato il momento di vedere la sorpresa Perché infatti Spidey mi ha detto di prendere un minecart Posizionarlo qua in questa ferrovia Perché mi porterà in una zona nuova Appena costruita E a quanto pare ci dovrebbe essere Una piccola sorpresina Un easter egg Qualcosa che hanno fatto solo per me Che cosa sarà ragazzi? Non lo so Sono molto 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 curioso Ovviamente sapete già che io queste cose non me le spoilero Perché vi voglio far vedere la mia vera prima reazione naturale E oh inizio a travedere delle build Cosa sono quelle strutture? È una casa sull'albero Sì è una casa sull'albero Piuttosto distante dal castello Come mai l'hanno fatto così distante? Oh mio dio Cosa? Ci sono altre costruzioni Un ponte Ma stai scherzando? Ah ti fa anche il Perché sei arrivato Work in progress Perché puoi continuare con il viaggio lungo tutto l'albero Che figata Ragazzi lo sapete Io ho un debole per le case sull'albero Poi soprattutto se fatte così bene Fermata Candy craft? Cioè quindi questa è la casa sull'albero della candy craft? No quella è No ho capito È una citazione È una citazione alla mia vecchia serie vanilla Allora il ponte credo sia una citazione all'impero craft Perché è molto simile a quello che ho fatto Anche se il mio è un po' più grande E qua che è successo? Dai vi do una mano io ragazzi Così posso dire di aver contribuito Ecco Oh perfetto Ragazzi quella mi sa che è la casa della candy craft Certo ovviamente è migliorata Di un bel po' anche Ecco perché mi aveva detto che c'era una sorpresa da questa parte Eh sì vedete che l'albero tra l'altro è lo stesso Nella candy craft gli alberi erano di dark wood Wow Eh beh decisamente è migliorata Perché la mia casa non era così bella Ha fatto anche la vetrata Ok fammi entrare un attimo vediamo I letti verdi Proprio come nella candy craft No vabbè ma ha pensato proprio a tutto Le foglie sul soffitto Tavolo da pranzo Ma che bello Ho rotto qualcosa Non pensavo di romperlo scusa Questa è la postazione per le armature Ok Ho sentito un gatto No non mi dire Non mi dire È yogurt Non ha il nome No ragazzi Apprezzo tutto ma questo è un errorone eh Il mio gatto nella candy craft si chiamava Anzi si chiama yogurt Diamogli il nome Ecco molto meglio Wow Che strano Sembra di essere entrati veramente nella candy craft 2.0 Oh mio dio Ah ecco perché il ponte E infatti è nello stesso stile Con la berce al centro Con questa entrata Proprio come nella candy craft Perché l'entrata di casa mia appunto era così Ma dai E ha fatto anche un passaggio segreto nell'albero per caso Ehm No non si direbbe Che bello Non me l'aspettavo Vi dico la verità Guardate che bello anche sto balconcino Ecco perché il ponte Perché la candy craft era tutta quanta formata da ponti E le strutture che hanno costruito sono molto simili a quelle che avevo fatto io Ovviamente centomila volte più belle Pazzesco Chissà qual è il progetto dietro a questa costruzione Cioè secondo me Conoscendoli e sapendo quanto sono pazzi Probabilmente riempiranno tutta questa zona di costruzioni e ponti Non si limiteranno a queste tre Però vedremo Ovviamente ragazzi lasciate un mi piace se volete vedere la parte 3 Perché gli ho detto che possono costruire quanto gli pare piace anche per anni Utilizzeranno questo mondo come mondo sfogo E io all'incirca ogni mese cercherò di entrare qua dentro Per vedere che cosa hanno aggiunto Beh devo dire ragazzi che Sono rimasto senza parole Non mi aspettavo sicuramente questo livello di dettagli all'interno del castello E soprattutto non mi aspettavo tutte queste nuove costruzioni Che spettacolo anche questa stanza È tutto così perfetto Ma come fanno a non sbagliare nulla Cioè io ho sempre problemi con la simmetria Le cose mi vengono storte Eh a loro no invece Anche il ponte è stupendo Ed è un banalissimo ponte Probabilmente non si sono neanche impegnati a farlo Io ragazzi rinnovo i miei complimenti a Spidey e Pietro E ripeto secondo me sono i due costruttori migliori d'Italia Ovviamente spero che questo video vi sia piaciuto Se così è stato lasciate un mi piace Mi raccomando Più supportate questa serie E più video potremo farci insieme Anche perché vi dico la verità Ho intenzione di pagarli regolarmente Per tutto quello che stanno costruendo Anche se loro si rifiutano sempre E dicono che lo fanno per piacere Lo fanno per divertimento Ma non sarebbe giusto Quindi vi raccomando Condividete questi video Supportatemi al massimo Perché sono felice di poter retribuire questo loro lavoro Dal vostro imperatore è tutto E noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao Grazie Grazie Grazie